Oggi, giornata feeder, adesso tiriamo su i due falliti che sono lì che mi aspettano al parcheggio. Buongiorno! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a feeder in po', da dietro c'è la ciurma, soliti laceo professionista, Davide. Chissà se oggi mangerà qualche pesce. Stiamo pescando con i pasturatori aperti, pastura classica, pastura rossa, pastura, sul lamo metto quattro cagnotti, tre cagnotti e si lancia. Non ci credi neanche tu? No. Raga, primo barbotto, dopo tre quarti d'ora che siamo in pesca, è arrivato sulla scena di pastura dei due compari. Adesso lo rilascio. Tu ieri. Il momento preferito della pescata, si mangia. Stappata la birretta. Oh, vieni a mangiare, lascia stè. Professionista. Eccolo che c'è, ora di pranzo. Come sempre, quando si va a pranzo, mangiano. Qua c'è l'altro che era pronto il panino, stavo facendo, fai vedere, ma che roba. C'è, qua ci trattiamo bene. Ma torniamo il pesce, signori. Qualcuno di pranzo? Vabbè dai, quel barbotto. E' barbotto. Il secondo barbotto è la pescata. Ci voleva l'incipit. Appena calato, il Davide c'è. Ovviamente, anche adesso sta mangiando il panino. Ciao, caccia fuori sto big va. Col suono interattivo. Col suono del vento, sì, perché ormai ogni volta che si va a pescare c'è vento. A rompere i coglioni. Capitano in Cardegna. Ho appena visto il guadino. Eh, sono tutti bellini però. Ho avuto problemi nella guadinazione, come si dice? Questo è il più grosso della giornata. Ormai sono due o tre uguali. No, il mio era più piccolo. Ce l'abbiamo. Terzo pesce. Vai col release. Puoi tornare a mangiare, Davide. No, il pesce non è tanto. Com'è Pislot? No, no, è un bel barbocco. Secondo me sono tutti quella taglia lì, sai. Allora andiamoci. Questa è la brem da trefino. La brem veniva su come tirava su un saghetto bagnato. Quarto barbotto, questo è un po' più lungo degli altri. Infatti adesso per curiosità lo misuriamo, proviamo a pesarlo. Poi dopo lo stariamo. Quasi due e mezzo. Quasi due e mezzo. Dopo lo stariamo, lo regalo. Dobbiamo tagliare il peso del guadino. Lascio. Quasi due pesa questo piccione vogliamo fare la gara li pesiamo tutti questo è grasso questo è il più grosso forse in termini di peso della pescata adesso pesiamo anche questo 200 grammi più dell'altro 262 e togliere il peso del adesso piano lo lascio adios muchachos sai che in tempi di crisi dovrei filmarli in 4k così riesci meglio a prendere il train un calcio così in mezzo pesce pesce altra cattura per il gianluca solito taglia lì c solito taglia come l'ultimo ci vuoi? yes e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dai il pesce è bello buono, dai vabbè, devo mangiare. Sarebbe bello. Visto che fai il filmato. Dai il pesce è bello. Sembra un po' più grosso degli altri, non sbaglio? Ma sembra. Magari un asco. Fai l'acqua. Allunghi. Eh dai, questo è un po' più... Sembrerebbe un po' più grosso. 3,16 togli cos'era? 2,4,60. Barbotta. Per forza li prendete tutti voi, a Monte ci sono io che pasturo. Raga, inesimo barbo. Non è che ci stiamo surfando, eh? Abbiamo preso una decina. Non è rimane, viva. Sembra l'uncino. No dai. Vieni tu, eh, perché c'è la corrente. Si è alzata un po' la taglia, dai. Barbotta, altro barbo. Ero a te i piedi. Altro barbo. Altro barbo per il professionista. Il solo e unico professionista. Come lo vedi questo? Big? Solito stronzo. Ho preso la... Eh... La corsa, la corsa. Ci siamo. Il big del fiume, il big del fiume. Ragazzi, l'ultimo pesce della giornata. Stavamo facendo su. Com'è? Solito. Ormai taglia media purata. Menomale che non avevi ancora fatto sul guadino. Io avevo già smontato tutto. Stavo per metterci le mani. Forse è un po' più decente. No. Anche l'ultimo barbo della pescata è venuto fuori. Taglia media di oggi è questa. Più o meno sui due chili, due chili e qualcosa. Due chili e mezzo. Due chili e mezzo. Vai. Lasciamo anche questo. Ragazzi, la pescata di oggi si conclude. Abbiamo preso alla fine un po' di barbie. Solo quello. Speravamo in qualche altro pesce, qualche carpa, però... Solo questo ci ha regalato il fiume. Meglio di niente. È stato il periodo di siccità. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi chiedo di lasciare un mi piace. Iscrivetevi al canale. Se volete seguirmi su Instagram, il mio nome è andrewolp.fishing E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!